Può incidere in maniera assolutamente fondamentale, uno dei motivi per cui il nostro Paese non sta crescendo è perché non siamo stati capaci di abbracciare in maniera estensiva all'interno del nostro tessuto imprenditoriale che è fatto di piccole e medie imprese proprio la trasformazione competitiva digitale. Un numero vale per tutti, l'84% delle piccole e medie imprese fallite nel 2014 in Italia non avevano neanche un sito web e soltanto il 10% oggi delle nostre piccole e medie imprese ha un livello di intensità digitale accettabile, è una straordinaria opportunità per raggiungere nuovi mercati, per essere più competitivi, per essere più efficienti in sostanza per poter portare la nostra industria, in particolare la nostra manifattura a essere quella che è sempre stata centrata in sostanza sulla competizione. Grazie!